Ciao ragazzi, ci sono Mito125 e oggi siamo qui su Minecraft 1.8.8 Scemo qui con la... l'ho vista da Surreal Power Per colpa di Surreal Power io non finirò mai una mappa Perché me ne fa vedere sempre di più belle E ovviamente io sono portato a provare sempre quelle più belle La mappa è del chemist di Red Engineer Engineer, non lo so come si dice E comunque è una mappa che voi piazzate due command block Vi fa tutto sto lavoro qui, sta casupola qui Non so cos'è sta casa comunque È una casa di command block con un buco qua a rientrare Non mi chiedete come mai c'è un buco Anche qui c'è un buco a rientrare, avrete tutto più bello Sì, siamo in creative mode, quindi non ne sto volando Lo so che sto volando Vi basta alla fine buttare via tutto Credo, credo di sci Fammi vedere, io butto tutto così Vi basta cliccare col tasto S su questo segnale per farlo partire Per creare questa mappa ci sono due command block da piazzare con dei comandi Come si fa per crearla? Come mai non mette tutorial? Andate da Surreal Power, episodio 1 e guardatelo da lui È inutile che qui facciamo tutte le stesse cose Right click to start Right click è questo, ok Your game mode has been updated Ok perfetto Allora come vedete qui abbiamo acqua e lava Prendiamone uno alla volta perché voi sapete che io rischio di perdere tutto E voi direte, beh ma con l'acqua e con l'acqua ci puoi fare Con l'acqua e con l'acqua e con la lava ci puoi fare solo il cobblestone generator No, questa mappa mi ricorda tantissimo la serie Intanto lì sotto, bello lì sotto c'è il command block Vabbè lasciamo, non guardatelo, non guardatelo Guardate me, guardate me, non guardate me Ok perfetto Meglio occhio, meglio occhio, perfetto Questa mappa qui è molto, è un modback, una specie di modback Io non sono mai stato capace di installare un modback Appena Surreal Power ha fatto vedere come si installava Cazzo lo voglio provare, cazzo lo voglio provare Allora lancio il secchiello, lancio l'altro secchiello Aspetta, lancio il secchiello di acqua Lancio questo qui E mi ritorno i due secchietti con il cobblestone Due secchiellini con il cobblestone Direte, ma come mai? Non lo so, come mai? Però, eh, è Minecraft vanilla Però non credo si possa fare, eh, dentro, dentro Minecraft Cioè, qualcosa funziona Comunque, eh, direte, vabbè, con mo' questa cobblestone che ci fa? Niente, niente, la butto lì Lascio lì È finita qui? No, non è finita qui Noi buttiamo, guardiamo quello che abbiamo Abbiamo anche del bon meal Fertilizer Non so perché si chiama Fertilizer Se poi si chiama bon meal Penso che gli abbiate il nome Può darsi, non lo so Se voi prendete il cobblestone E gli lanciate sopra l'acqua E io sbaglio sempre Questo e poi gli lanci questo Vi dà la gravel E dici, vabbè, mo' questa gravel ci fai accendino Ci fai, no, non ci faccio l'accendino Rilancio la gravel Attenzione a non lanciarla lontano E la riprendo Lanciamo questo, lanciamo questo E mi dà la terra Il punto più importante in questa skyblock È proprio questo pezzettino di terra È proprio tutto da lì deriva Direi, direte, mo' Beh, è finita qui? No, non è finita qui Ancora non è finita qui Intanto possiamo Sticcare i secchiellini Vi ricordo che alla fine di questa mappa Se mai ci arriveremo Comunque arriveremo a un punto in cui avremo 30 milioni di secchiellini Che ci faremo? I caselli di sabbia Ovviamente Direte, mo' con sta sabbia che ci fai? Non ci puoi fare niente Con questa terra non ci pianti niente sopra Non è vero, non è vero In pratica in questo gioco Vi dà anche i semi E vi dà anche il L'alberellino Però prima di farlo Devo andarmi a guardare la ricetta Perché non me la ricordo La ricetta per come si prepara Quindi aspettate un attimo Direte Potevo guardarle prima? Sì, potevo guardarle prima Ma tanto io non ho memoria Quindi Sti cazzi Allora, prendiamo sta terra È una cosa un po' particolare questa Questa non so come mai funziona così Butti così Ti dai il semino Il semino dici tu Beh, lo pianti sulla terra E la terra dov'è? La terra se la fotte il gioco Se la fotte Funziona sempre così A noi ci serve di nuovo della terra Allora, prendiamo un altro blocchettino di lava Ne abbiamo usato i 3 Mi sembra 3 ne abbiamo usati Quindi buttiamo Il secchilino di lava Buttiamo il secchilino questo qui E ci dà di nuovo la cobblestone Buttiamo la cobblestone Buttiamo l'acqua E ci dà la gravel Buttiamo la gravel Buttiamo l'acqua E ci dà di nuovo la terra Siamo a buon punto Siamo a buon punto Perché adesso Non me lo ricordo di nuovo E quindi lo vado a riguardare Aspetta ancora un momentino Perché io non mi ricordo mai niente Ok? Ho preso il tablet Perché se no Non posso fare sempre Interrompi Guarda Io sono solo monitor Ovviamente Non ho due monitor Allora Prima di fare qualsiasi altra cosa Dobbiamo farci l'alberello L'alberello si fa dalla Aspetta un attimo che guardo C'ho qui il tablet Vedete che c'ho il tablet Sì L'alberello si fa unendo Un blocco di terra E un blocco E un semino Quindi buttiamo questo Buttiamo quello Ci dà l'alberello Questa è la nostra salvezza Questo è il punto più importante Di questa mappa Di qua dovete partire voi Adesso direte Vabbè e mo E mo prendiamo di nuovo Perché dobbiamo farci Un altro pezzettino Di terra Quindi buttiamo questo Buttiamo questo E mi dà la cobblestone Possiamo sempre Secchiellini Prendiamoci Altri due Sì Altri due secchiellini Perché comunque Devo fare una cosa particolare Prendiamo la grave Le lanciamo la grave Le lanciamo l'acqua Ci dà la dirt Siamo Siamo veramente a cavallo Siamo a cavallo Allora Prendiamo sta dirt La mettiamo qui Prendiamo sta alberello Lo mettiamo qui Piantiamo l'alberello E dove lo piantiamo Eh questo è un bel problema Dobbiamo piantarlo Intanto premiamo shift Perché qui se si muore Sono veramente un pirla Mettiamo qui Mettiamo l'alberello qui E usiamo il fertilizer Prendiamone Boh vediamo quanto ce ne serve Intanto sta diventando notte Ma mob per il momento Non ne spawnano Perché comunque Dove vadano Volano Dovrebbero volare Non possono volare Gli zombie forse volano Perché io comunque Ho visto degli zombie Che sono a cavallo delle galline Quelli mini Mini cosi La mini me E comunque Usiamo qui il fertilizer Dimmi che Uh eccolo l'alberello Ovviamente ho rischiato tantissimo Va bene Ho rischiato tantissimo Quindi rompiamo qui questo coso Ero dentro l'albero Mi stavo baggando dentro l'albero Allora Dobbiamo stare attenti Prendiamo direttamente questo Mi serve uno Sì Due Sicuramente due Prendilo Ok non fanno cadere E tre Tre Quanto ce n'ho? Boh non lo so quanto ne ho Allora Intanto proviamo a vedere Se mi droppa un alberellino Di qua No eh Niente alberellino Vabbè L'alberellino non ce lo droppa Subito modifichiamo questi Prendiamoli tutti quanti Facciamo un Una crafting table Subito così Abuciva La mettiamo qui E facciamo delle Slab Sì dai Facciamo delle slab Dici Ma perché fai slab E' semplicissimo Perché ho paura Che tutto quanto Mi vada a finire sotto Se io perdo il semino Che uno solo ne ho E lo perdo Posso dire Addio al gioco Posso dire Vabbè è stato bello provarci Ma non ci sono riuscito Intanto questo qui lo posso rompere Posso rompere anche questo Adesso Posso rompere anche questo Non cade niente di sotto Questo qui lo posso rompere Quindi stiamo attenti A come rompiamo le cose Solo che io di qua Non mi posso allargare tantissimo Vediamo se riesco a rompere questo Ok grazie Se non mi da il semino Posso dire di aver perso Se non mi da un'altra pianticella Ho perso proprio Ho perso Quindi può darsi anche Che dovrò usare la creativa Per torparmi un altro coso Un altro alborcello Perché comunque Questo qui può cadere qui Ok vediamo un po' Potevo anche provare A prenderlo al volo Però sapete che non so Bravo bravo Se provo a prenderlo al volo State sicuro che lo faccio cadere Ma proprio sicuri 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 Mettiamo qui questi qua Fammi vedere Me ne serve ancora Me ne serve Facciamo una prima base Così un po' abusiva Ok L'alborellino me l'ha dato Sono contentissimo Possiamo l'alborellino E continuiamo a prendere Aspetta però Aspetta Qui mi può cadere ancora Guardo intanto un po' Quello che devo fare Dall'alborellino Ce l'ha dato Ma solo uno Mi sembra veramente poco Mi sembra proprio da molto di fame Me ne poteva dare 3 10 20 60 milioni Tipo No Non mi dà gli alborellini Uh Vaffanculo vai Vaffanculo l'alborellino Ve l'ho detto che cadeva Ve l'ho detto Mica non lo so io che cade l'alborellino Io ogni volta che ho gli alborellini Questi mi cadono di sotto Quello è caduto di sotto Meno male che ne abbiamo uno Però È un problema Allora facciamo così Quello me l'aveva dato Però mi è caduto Piantiamo questo E usiamo un po' di bombilla Anche se Anche se poi ci troveremo un po' in difficoltà Però dovremmo riuscire a farlo Se poi ci troviamo in difficoltà col bombilla Guarda Guarda che non cresce più sto figlio di puttana Se ne è fottuti 8 Ok è nato l'albero stupido È nato l'albero stupido Perché ovviamente doveva nascermi l'albero stupido a me Non è che poteva nascermi altrimenti Qualcosa di più carino Facciamo un po' di basetta Mettiamo questi qui dentro Poi prendiamoli tutti Tiriamoli qui dentro Ok Lascia anche questo Prendiamo altri 12 slab Con lo slab io voglio fare una piccola copertura in legno Che mi consenta di raccogliere Tutto quello che mi cresce Cioè non deve cadere più niente di sotto Non voglio che Veder volare qualcosa di lì sotto Mi dà fastidio quando mi cadono i materiali C'è una cosa che mi fa incazzare E' proprio questa Abbiamo usato 8 pezzi di bombilla in più Per colpa di un errore Del Io penso più dell'alberello Che si è messo lì a A volare Che cazzo ti vuole alberello Quindi abbiamo un problema Abbiamo al momento Quindi prendiamo altra legna E me lo raccolgo da solo Questo alberello 6 pezzettini di alberelli Sono ottimissimi Uno lo piazziamo qui Dovrebbe cadere ancora qualcos'altro Speriamo che casca anche una mela Dici Beh abbiamo finito No non abbiamo finito Non abbiamo finito Quindi stiamo calmi Prendiamo di nuovo Sti due secchiellini L'ultimo secchiello d'acqua Direte Sei pazzo? Sì sono un po' pazzo Però dobbiamo fare così Dobbiamo fare per forza Peraltro Sì 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 Stavo guardando la ricetta Perché non me la ricordavo Buttiamo questo Buttiamo anche questo E mi da la cobblestone E direte voi Ebbe un'altra volta Sta cazza di cobblestone Sì Un'altra volta la cobblestone Allora buttiamo La cobblestone Buttiamo la lava E ci da La stone Buttiamo la stone Buttiamo Questa qui E ci da L'or L'iron ore Quindi è il Cubettino di Come si chiama? Si chiama Di ferro Buttiamo La cosa è particolare adesso Buttiamo Il ferro Con la lava Il ferro si cuoce E diventa L'iron lingot E' veramente fantastico E' veramente bellissimo Se fosse così facile In Ma neanche facile Se fosse così carino In vanilla Mi piace molto di più Questo sistema Allora Questo qui Che cosa dobbiamo farci? Dobbiamo Sperate un attimo Che ci guardo Perché io lo guardo in diretta Non faccio mai le cose Tanto per Se noi mettiamo Il secchiello L'iron Aspetta Non premere troppe cose Allora Butti questo E butti quest'altro Mi da Il calderone Il calderone Adesso dobbiamo scegliere Dove piazzarlo Perché Perché E' un po' C'è questo cosa qui Ci serve tantissimo Perché se noi mettiamo Io lo metterei anche Sì dai Lo provo a mettere Qui C'ho un po' paura Dove metterlo Per il momento Lo piazzo qui No Non è vero Dico sempre una stronzata Per il momento Lo piazzo qui Sì Lo piazzo qui Però voglio fare una cosa Voglio spostare questa chest Questa chest qua Non mi piace per niente No aspetta Scusa Ho sbagliato Me la dai così vero? Con le manine Si può rompere la chest Penso proprio di sì Non la far cadere di sotto Ok Spostiamo sta chest Perché Adesso dovremo lavorare Con la lava Proviamo a metterla In questo Proviamo a metterla qui Per il momento Io non metto mai niente Al bordo Però mi sa che devo Piazzarla per forza qui Ok Possiamo queste cose Allora Ho detto Abbiamo questo Iron Calderon Questo è un calderon Se noi ci buttiamo dentro L'ho messo troppo in là L'ho messo Ok Mi serve dell'altra legna Dammi Con 4 Ci faccio 6 Sì dai Dovrei uscire a farcelo Così Ce ne faccio 6 Perfetto Faccio 6 di questi così qua Ho una paura Tremenda di perdere i pezzettini Io Lo sapete che Sono un pirla Li perdo sempre Li perdo Facciamo una specie di Di protezione Ecco Questo qui lo metto qui Così iniziamo già a dare una forma A questa Nostra base Se noi prendiamo Uno di questo E prendiamo anche dei Secchiellini Prendiamole 5 Ma sì dai Prendiamole 5 Se noi buttiamo Fammi vedere se è vero Se noi lo buttiamo lì dentro Si forma l'acqua Quindi facciamo Uno No Uno Come si fa a prendere Uno Non la so prendere Non so prendere l'acqua Perché non la so prendere Perché sono un pirla Però Forse devo buttarglielo dentro Sapete che non lo so Ah ok Mi ha dato un solo Cosino di acqua Quindi Avevamo finito l'acqua Circa avevamo finito l'acqua Però ce l'abbiamo ancora Ce l'abbiamo Non stiamo morendo di acqua E io quasi quasi Farei la prima fonte Di Di acqua infinita La faccio qui sul legno Perché purtroppo Non è che ho Altro Altro sistema Altri Altri blocchi Cioè Devo farla per forza qui Peraltro Se la faccio qui Faccio un po' Una stronzata Dove la faccio La potrei fare In quest'angolino qui Faccio uno due No è troppo vicino Devo fare Devo allargare un po' la base Perché non c'è veramente posto In questa base Cioè Non so veramente cosa fare Con sei Non ci faccio mai niente Dammi nel duemila Tipo Invece che darmi nel sei alla volta Cerchiamo di non morire Se moriamo Io Mi droppo quello che avevo Me lo faccio dare Dal Command block Cioè Devo far per forza così Mettiamo uno due Uno due Qua si può fare Qua si può fare Quanti pezzi di legno c'ho Ne ho sei Dammene Me ne servono otto Me ne servono circa Quindi dammene Otto e due ce li ho Ok Butta lì sopra Poi Non so perché sono andato qui Però sono andato qui E quindi non fa niente Facciamoci la fonte d'acqua Come dicevo Se noi la facciamo Proprio qui Faccio uno due Poi devo piazzarne uno Se invece faccio uno due Ehm Vabbè La faccio qui all'angolo Dai Faccio uno Due Poi faccio uno Due Ce la faccio lo stesso Anche se Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.